pole position di alesh e spargarò con l'aprilia è una pole position storica perché è la prima dell'aprilia in moto gp l'aprilia ne aveva conquistati due nella classe 500 una con tetsuya rada al mugello e una con jerry mc williams a phillip island in australia 21 anni e cinque mesi fa insomma è qualcosa di storico ma ancora più della pole position di ma di alesh e spargarò ancora più delle ottime prestazioni di maverick vignale squinto e mai così a suo agio con la moto di noale colpisce la consapevolezza che si respira dentro al box di noale alesh e spargarò ha detto domani domenica possiamo fare qualcosa di storico come dire posso puntare alla vittoria il passo ce l'ha è lui quello con il passo migliore assieme a fabio quartararo e soprattutto alesh e spargarò ha detto se uso la testa se sarò se saprò giocare bene le mie carte ci potrebbe essere qualcosa di storico a valenza come dire possiamo ottenere veramente un grandissimo risultato e per certificare questa sua frase alesh e spargarò ha detto non sono stato solo efficace qui ma sono stato molto efficace in catar e potevo essere molto efficace sull'asciutto in indonesia sul bagnato sono stato io ad andare piano quindi un alesh e spargarò molto convinto del materiale casa a sua disposizione ma è molto convinto anche l'ingegnere romano albesiano il direttore tecnico di aprile il papà della rsgp romano albesiano ha detto in diretta sky il gruppo piaggio aprilia non ha niente da invidiare alle migliori case di questa categoria come come dire ci siamo siamo pronti ce la possiamo giocare ecco è questa secondo me la notizia in prima fila è questa la notizia da sottolineare è questo l'aspetto importante della giornata di oggi aprilia si sente forte aprilia si sente in grado di potersi giocare la vittoria il podio e anche qualcosa di importante a livello di campionato questa è la notizia in prima fila di oggi io sono lo jam vuole sapere la vostra opinione